Un messaggio dal letto di ospedale che suona come una liberazione L'ex tronista e Jeffine Andrea Cerioni comunica ai followers di essersi sottoposto all'intervento di colecistectomia che tanto attendeva in quanto unico vero modo per risolvere i problemi addominali che lo attanagliavano nell'ultimo periodo E' stato tutto veramente un incubo questo periodo Ora fa un po' male, mi auguro di tornare nuovo in fretta, scrivemi un messaggio condiviso su social dopo l'intervento Ora fa un po' male, mi auguro di tornare nuovo in fretta, scrivemi un messaggio condiviso su social dopo l'intervento Sono davvero esausto da questo periodo, aveva esordito prima di partire con il racconto risalente alla pandemia e allo crown, periodo durante il quale prese molto peso Poi, nel 2021, l'esperienza dell'isola dei famosi e il forte dimagrimento, persi 26 kg in 80 giorni, usciti da là, errore mio tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente un bianco, ha proseguito ancora, ammettendo di aver ripreso 28 fratto 29 tappaggi in poco più di un mese Dopo essersi curato, negli ultimi mesi sono tornati i dolori alla bocca dello stomaco, allo sterno e alla schiena Gli esami del sangue non riscontrano nulla di preoccupante, ma tappe ed ecografia confermano un problema alla policisti per cui si è sottoposto a biopsia che darà i suoi uccidi Risultati tra 10 giorni Ora che il quadro è tutto chiaro e la terapia mirata spero inizi la discesa, ha concluso ringraziando tutti per le tante dimostrazioni di affetto Risolto il problema ora potrà concentrarsi sulla sua compagna Arianna Chirincione e sulla bimba che porta in grambo dal momento che tra qualche mese è la padre della sua bimba Non scherzi